Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Da oggi riprendono i lavori serali di rinnovo dei binari della metro A. Dalla domenica al giovedì l'ultima corsa dei treni alle ore 21, poi il servizio prosegue su bus. Il venerdì e il sabato l'orario metro resta invariato. Inoltre per la manutenzione delle scale mobili sempre da oggi e sino al 30 giugno è chiusa la stazione di Vittorio. In alternativa si può utilizzare la fermata di Manzoni. In estate poi per lavori di riqualificazione saranno chiuse le stazioni di Spagna e Ottaviano. Tutti i dettagli sui lavori metro A con le date su romamobilita.it Grazie a tutti.